Buonasera carissimi amici e bentornati nel premiato maglificio romagnoli. Questa quarantena ci sta tenendo lontani dai tavoli e purtroppo noi nerdacci non ci si può più ritrovare per picchiarci al gioco di carte più bello del mondo. Abbiamo cercato diversi modi per farlo in internet, esiste Magic Online, esiste Magic Arena, però noi ci si era inzucconiti su un formato in particolare, ovvero il draft di Kubo, uno dei formati più belli di tutto Magic. Dunque in modalità online il Kubo è disponibile soltanto su Magic Online, soltanto durante i periodi di vacanza, che sono periodi brevi in cui durante l'anno Magic Online mette questo formato disponibile, e soltanto a pagamento anche se è un Phantom Event. Quindi noi ci siamo scervellati e abbiamo navigato e ricercato per trovare un modo per poter giocare online al Kubo sempre, in qualsiasi momento, e non solo, anche gratis. E siamo andati a rispolverare un vecchissimo programma conosciuto dai più, dai molti di più sottovalutato, quindi se volete sapere anche voi come potete fare a draftare Kubo sempre, continuamente, in qualsiasi momento, e gratis, andate avanti nella visione di questo video perché stiamo per parlarvi di coccatrice. Molto bene, dunque, andate su Google, digitate coccatrice, facile facile, prima voce, vi ritrovate sul sito dal quale potete scaricare il programma. Innanzitutto, come potete vedere già dal sito e dal sistema operativo che io sto usando, il primo punto a favore di questo programma, che balza immediatamente all'occhio, è che finalmente c'è un qualcosa per giocare a Magic su Mac. Perché io non riesco a capire perché Mac puzza per la Wizard, ma tutti i prodotti Wizard sono giocabili soltanto su sistema Windows. E io non riesco a capire perché noi utenti Apple non possiamo godere del gioco di carte più bello del mondo. Non so se dietro c'è un discorso di esclusive, non si è mai capito. È uscito Magic Arena, Magic Arena dicono che girerà anche per sistema Apple nel futuro. Tra l'altro Magic Arena è un programma con una potenza grafica pazzesca, e insomma, come un merito di grafica, Mac sappiamo che ne mastica. Quindi non riesco proprio a capire perché ci sia questo tabù tra Mac, tra Apple e Wizard. Speriamo che facciano la pace, perché sennò noi utenti Apple rimaniamo a bocca sciutta. Nel frattempo, Coccatrice rimane l'unico mezzo per utente Mac che ci dà la possibilità di giocare a Magic. Ok, quindi installarlo è facilissimo, perché si installa praticamente, cioè vi guida proprio a prova di Babbeo. Io faccio clic dopo clic, io faccio il download per Macintosh, su Windows non sarà molto diverso. Vedete, io lo metto sulla scrivania, vi faccio vedere passo passo. Lo salvo, lo andiamo a salvare. Ok, l'abbiamo scaricato, ecco il nostro zippone. Lo andiamo ad aprire. Quando aprite il file zip, se fate il file X in parte Windows, su sistema operativo Windows sarà semplicissimo perché basterà veramente clicca avanti, 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 installa, installa, installa e fa tutto da solo. Qui apriamo il nostro DMG, accettiamo perché accettiamo qualsiasi cosa pur di riuscire a giocare a carte in questo momento. Vi si apre la cartella, qui c'è il programma e qui c'è l'oracolo. Vi faccio vedere prima il programma, Coccatrice vi si apre. Vi ritrovate su questa pagina, qui non avrete niente, sarà tutto completamente vuoto perché il vostro database di carte non è ancora stato importato. Quindi ritornate nella cartella di prima, oracolo, aprite l'oracolo, impostate la lingua, italiano, continua, ok. Qui vi dà l'indirizzo di download dal quale scaricare il database di carte. Usa l'indirizzo predefinito, voi come vi dicevo prima non dovete toccare niente, dovete mandare avanti il programma, fa tutto da solo. Scaricamento, perfetto. Qui sono stati trovati i seguenti set. Qui ci sono tutti i set di Magic, tutte le 20.000 e rotte carte che sono state stampate in Magic the Gathering. Io non schiaccio salva perché l'ho già fatto. Voi schiacciate salva, io chiudo. Dopodiché voi aprirete la coccatrice e vi ritroverete qui tutto il pool di carte di tutto Magic. Qui di fianco c'è la vostra, insomma il vostro deck builder. Quindi voi cercate, avete anche ovviamente la barra di ricerca tipo se noi volessimo Jace the Mind Sculpture nel nostro mazzo. Perché vogliamo rimembrare Cowblade, noi clicchiamo e lo aggiungiamo al nostro deck. Come potete vedere se facciamo più o riclicchiamo qui un'altra volta, vedete incrementano le copie, oppure facciamo più per incrementare, meno per decrementare. Qui c'è la parte grafica, potete scegliere se immagine, testo soltanto della carta oppure averli entrambi. A me piace vedere le carte, leggere il testo dalle carte, finché la vista mi lo concede. Ok, e questa è la coccatrice. Prima di andare, di passare alla partita, vi faccio vedere dove dovete andare a draftare. Perché arrivati a questo punto dovrete andare a draftare per portare il mazzo sulla coccatrice. Il secondo sito di cui avrete bisogno è CubeTutor. CubeTutor è questo sito nel quale ci si può loggare, voi registratevi e loggatevi perché per draftare dovete registrare il sito. La registrazione è velocissima. Io mi logggo. Qui ci sono diverse liste di cubo che potete draftare. Noi ci siamo fatti le nostre due. Una è un miscuglio di una lista vintage e una legacy perché noi giocando in multiplayer la citazione di JR, un giocatore del premiato maglificio Romagnoli, è stata Ogni volta che tiro una magia sul tavolo deve fare un buco. Ecco, questa è stata un po' la strategia tattica con cui abbiamo scelto le carte del nostro pool. Poi abbiamo fatto questo Ancient Cube, ve lo faccio vedere perché ne vado molto orgoglioso. è semplicemente un cubo, una selezione di 700 carte che abbiamo fatto antemodern, quindi tutte con il frame vecchio. Molto bello, molto divertente. Ok, torniamo a noi. Dunque, draftiamo il cubo quello classico. Qui c'è il menu a bandinella. Voi andate su Playtest. Su Playtest ci sono due voci, Draft e Grid Draft. Qui abbiamo la prima nota dolente, ma non è molto diverso da quello che succede sull'arena. Ovvero, se voi vi connettete tutti quanti al sito di CubeTutor e draftate insieme, tramite la voce Grid Draft potete draftare le stesse buste. Cioè, il giocatore che sta dall'altra parte del mondo e sta giocando con me, picca una carta dalla busta, passa la sua busta, la busta che io ricevo dopo aver piccato la prima è la busta che mi ha dato lui. Però, questa voce è a pagamento. La voce Free, invece, è Draft. Ma in questa voce, ecco qui abbiamo già la nostra prima bustina, avviene quello che avviene sull'arena, ovvero draftiamo da soli. Quindi, l'unica nota dolente è che giochiamo tutti insieme, ma ognuno drafta il suo tavolo con altri giocatori fasulli. Ci sono tre voci, Pack Size, sono il numero di carte presenti nel pacchetto che vogliamo draftare, il numero di pacchetti, i classici tre, possiamo anche incrementare o decrementare, e il numero di robot. Appunto, per il discorso che vi dicevo prima, dobbiamo impostare i giocatori virtuali che draftano con noi. Qui ci sono due scuole di pensiero, voi fate come volete, ovvero, possiamo trattare, noi di solito non siamo mai otto giocatori, siamo sempre meno, di solito quattro o cinque. Allora, o si seleziona comunque sette robot, tenete in considerazione che questo numerino è il numero di gente che siede al tavolo con voi. Quindi, se siete in otto, dovete contare voi stessi più il numero di bot, ovvero, da questo numerino dovete togliere il vostro posto. Quindi, se siete in otto, siete voi più, tac, sette giocatori. Quindi, se siete in cinque, o draftate tutti con sette bot per simulare un draft vero, oppure mettete realmente il numero di giocatori che siete, ovvero, se siete in cinque, voi più quattro bot. Fate set, ed ecco la vostra bustina, e si inizia a draftare. Black Lotus, non male, in prima busta. Ok, adesso vi porto in fondo alle pick. Ok, quando piccate l'ultima carta, ecco che venite catapultati in questa finestra con tutto il vostro pool di carte. Io ho piccato un po' alla bene meglio, non sono stato a ragionare, mi è venuto questo bianco-nero, abbastanza cattivello. Dunque, ora, cliccando qua sopra, ogni volta che cliccate su una carta, quella si sposta di sotto e va a costituire il vostro mazzo. Quindi, voi, facciamo il solito bilanciamento 23-17. Benissimo, ora qui sotto avete le vostre 23 carte che entreranno nella main del mazzo con cui farete la vostra partita. Potete guardare le carte ordinandole per converted ma a costo, oppure per colore. Eccoci qua. Poi andiamo ad aggiungere le terre. Se avete piccato delle terre, le andate ad aggiungere al mazzo. Noi abbiamo visto, tipo, alcune terre di bicolore bianco-nero, alcune Hordes of Lens. Addirittura abbiamo anche un Black Lotus e un Mox bianco. Ok, 27, per arrivare a 40 mancano 13 terre. Per aggiungere le terre base, fate 13 terre, 2, 3, 3, 7, 6, facciamo 7 pianure, 6 paludi. Perfetto. E fate, dopo aver inserito questi due numerini, fate set land, perché altrimenti non avete le terre all'interno del mazzo. Il vostro mazzo, come potete vedere qua, è formato, ci sono tutte le 40 carte. Ora, risaliamo, c'è questo bel tastone verde con scritto Save, lo clicchiamo. Vi trovate in questa pagina, con questo tasto, il tasto Export, che è quello che dovrete cliccare per portare fuori il mazzo. Nella bandinella mettete Plain Text. Perfetto. Export. Salvate il vostro mazzo dove volete, io lo metto sempre sulla scrivania, mi fa comodo. Lo vado a riordinare in un secondo momento. Ottimo. Adesso abbiamo il mazzo con cui giocheremo su Coccatrice. Come fare a caricarlo sulla cocca? Innanzitutto, azioni, vi connettete al server di cocca. Su Coccatrice, anche qui, vi dovrete registrare, ma come per CubeTutor è veramente questione di un pugno di secondi. Io ho già introdotto il mio nome utente password, mi connetto. Ok. Andate qui sulla pagina Magic. Benissimo. Qui ci sono tutti i giocatori che stanno aspettando avversari per menarsi. Ma voi volete creare la vostra partita per invitare i vostri amici. Quindi, crea. Ecco, questo è un elegante epiteto con cui tra di noi ci rivolgiamo nel premiato maglificio Romagnoli. Poi impostiamo il numero di giocatori. Qui, su e giù, il numero di giocatori che volete. Io adesso metto 1 perché altrimenti non riesco a farvi vedere una partita e tra poco vi spiego perché. Qui c'è il formato, noi mettiamo il limite, ed è qui una password PMR. Perché così nessun avventore esterno può entrare accidentalmente nella vostra stanza. Conferma. Perfetto. Si entra qui in questa paginata nera. Qui siamo pronti per caricare il mazzo. Vado a cliccare appunto carica mazzo. Fatto questo, vado a prendere il mazzo che ho salvato sulla scrivania. Che non mi ricordo più qual era. Eccolo qua, file txt, perfetto, open. Ed ecco qua tutto il mazzo che ho draftato su CubeTutor. Aspetto che spariscano le scritte, come sul Commodore 64, attendo che si carichino tutte le carte. Ecco, vi faccio vedere questa cosa. C'è questa carta strana, questa qui in alto. Compare per questo motivo. Quando voi salvate il vostro file di testo da CubeTutor, in alto c'è il titolo del vostro mazzo. Quindi, Coccatrice legge questa riga, ma ovviamente essendo una riga che non corrisponde a nessuna carta di Magic, vi crea questa carta. Non c'è problema. O tirate via proprio meccanicamente la riga dal file di testo, la cancellate, come fate su Word. Oppure qui basta fare Sideboard Unlocked, che il tastone diventa verde, vi libera la sideboard. Potete dragare questa carta fantasma nella side e levarla dal mazzo. Non chiudete la side, perché se la chiudete il pool si resetta. Quindi voi lasciatela così. Quando siete pronti, cliccate Ready to Start. Qua potete anche fare tutte le vostre cose, qui ci sono le preferenze. Io, per dire, amo il Velvet Marble, perché mi dà questo fondo grigio. Adesso ve lo faccio vedere, che per me è molto bellino. Lì, Degustibus. Ecco, prima magagna è che, come potete vedere, le carte sono veramente molto piccoline. L'unica cosa buona è che, se ci andate sopra col cursore, a destra qui vi compare la grafica che potete anche allargare. Perché se voi date respiro all'immagine, la carta diventa anche più grande e potete vedere le carte meglio. Dunque, qui sulla destra avete la grafica della carta, il verbale, dove i giocatori possono anche chattare. E io l'ho tolto il numero di giocatori. Qui c'è un'altra finestrina, potete mettere, vi fa vedere i giocatori che sono presenti nella stanza. Io l'ho tolta perché non mi interessa. Ok, quindi quando cliccate Ready to Start, entrate nella partita. Io ho messo un giocatore solo nella stanza per potervi far vedere una brevissima dimostrazione di gioco perché, quando impostate più giocatori, finché l'ultimo giocatore non clicca Ready to Start, voi rimanete ghiacciati in questa pagina. Quindi se io avessi messo due giocatori, tre giocatori, quattro giocatori, cliccavo Ready to Start solo io perché in realtà sono da solo e non potevo andare di là. Perfetto. Ok, seconda magagna, vabbè, che alla fine è inerente alla prima, ovvero la grafica. Come vedete, la grafica, noi abituati a Magic Arena, vedere la grafica di Coccatrice al primo impatto è molto deprimente. Ma non scoraggiatevi. Calcolate che questo programma, Coccatrice, non ha nessun algoritmo che opera al posto vostro. Quindi è come avere il mazzo di carte in mano. Ogni azione che si deve fare con le carte avviene meccanicamente con il mouse, ovvero io devo mischiare il mazzo, perfetto, tasto destro sul mazzo, mescola e sto mischiando. Come potete vedere qui, nel verbale, viene scritto che io ho mischiato. Questo verbale serve per poter impedire a tutti i giocatori di trasciare. Quindi i bari avranno vita difficile grazie a questo verbalino. Certo che se draftate for fun tra amici, voglio dire, bastardi due volte se barate. Poi piano piano imparerete anche i comandi brevi. Cioè tipo se fate Ctrl S di Shuffle, voi vedete che compare qui nel verbale, state mischiando il mazzo. Con Ctrl D di Draw pescate la vostra carta. Quindi io pesco 1, Ctrl D ancora, pesco 2, pesco 3, 4, 5, 6, 7. Perfetto, questa è la nostra mano di partenza. Qui sulla sinistra avete tutte le fasi del turno perché vi ricordo avviene tutto meccanicamente. Quindi dovete cliccare semplicemente sui tastoni per illuminarvi, per illuminarli, pardon, per far capire al vostro avversario dove vi trovate. Untap phase, poi, fase di mantenimento. Pesco una carta, quindi illumino qui e faccio Ctrl D. E come vedete nel verbale, Vincent Nighteye pesca una carta. Perfetto, main 1, gioco la mia terra, gioco il mio Mox e gioco il mio Vampirello. Perfetto, poi ho finito. Quando ho finito non faccio pass, faccio end perché do la possibilità al mio giocatore di giocare effetti in out. Sarà il mio avversario che quando sarà pronto per giocare il suo turno che viene dopo il mio, schiaccerà pass e si riprenderà il turno da capo. Allora qui, questo alone grigio, quando giocherete in multiplayer, vedrete che si sposta sulla board ad evidenziare la board del giocatore che è di turno. Quindi grazie a questo alone grigio più chiaro, che quando si sposta diventa un pelo più scuro sulla vostra board, capirete sempre qual è il giocatore che sta giocando. Poi avete anche le frecce, cioè se tenete premuto il tasto destro e dragate, spostate una freccia, tipo io attacco e vado a puntare il mio avversario. Oppure sulla board avete, crea una pedina. Qui posso creare le pedino le vere e proprie carte di Magic. Se faccio Jace the Mind Sculptor. Attenzione dovete scrivere bene perché se no non vi riconosce la carta. Ecco, mettiamo che il mio opponent abbia Jace the Mind Sculptor sulla board. Allora io posso andare in combat e attaccare Jace. Per far vedere al mio avversario se sto attaccando lui o se sto attaccando Jace, muovo la freccia su Jace. Tac! E il nostro avversario vedrà che abbiamo scelto di attaccare il planeswalker e non la sua faccia. Questa è la coccatrice. Come potete ben immaginare io adesso ho caricato un mazzo che ho draftato su Cube Tutor. Ma potete ovviamente inserire qualsiasi mazzo vogliate. Quindi coccatrice vi dà la possibilità di giocare a Magic sempre, dovunque, completamente gratis e a qualsiasi formato di Magic esista. Questa è una risorsa veramente molto grossa per tutti i giocatori che vogliono fare test o vogliono giocare semplicemente for fun senza spendere i cari denari. E lo ripeto, al momento coccatrice è l'unico programma che gira anche su Apple. Quindi dà la possibilità agli utenti Apple come me, che ho dovuto fare bootcamp per giocare all'arena, di giocare a Magic anche dal proprio MacBook. Perfetto, ora vi faccio vedere come potete fare per reperire altri mazzi. Dunque, andare ad inserire un mazzo che sia un mazzo constructed o lo inserite qui meccanicamente. Voglio fare Delver of Secret, allora cerco il Delver e lo vado ad inserire nel mio mazzo. Oppure andate su internet e vi esportate mazzi da MTG Top 8. MTG Top 8, voi volete giocare a Commander? Benissimo, Commander. Qui c'è tutti i mazzi che volete. Ah bello, questo voglio giocare a Titania, perfetto. Allora, vado qui sopra, scelgo il mio mazzo. Mi piace la lista di questo baldo giocatore. Export, MTGO. Ed MTGO vi genera un file di testo, sempre sulla scrivania. Salva, perfetto. Il nostro file di testo qui, Dual Commander. Vado su Coccatrice. Mi connetto, perché mi sono disconnesso, perché sono forte anche a fare i tutorial e non solo a giocare a Magic. Creo la mia stanza. Giocatore 2. 2 giocatori. Voglio giocare Commander, perfetto. Adesso vi faccio vedere quello che vi dicevo prima. Ho messo due giocatori. Conferma. Benissimo. Carica mazzo. Vado a prendere il mio Dual Deck dal desktop. Dual Commander, perfetto. Open. Ed eccoci qua. La magia è fatta. Ecco, questa qua la devo capire perché tutte le volte mi cambia il mio tanto amato tema. Che a me piace. Velvet Marble. Confermo. Vabbè, non è grave. Ok, aspettiamo che carichi tutte le carte. E noi siamo pronti per pestarci in faccia con un Commander. Qui abbiamo il Commander. Qui abbiamo il nostro mazzo. Allora, come facciamo? Come facciamo per mettere il Commander? Quando siamo dentro all'arena, andiamo a guardare il mazzo, prendiamo fuori il Commander, lo mettiamo sulla board e poi rimischiamo. Cioè, è esattamente come avere il mazzo in mano. Voi pensate che non c'è niente che il programma fa automaticamente. Che questo, devo dirvi, è anche un pochino il suo bello. Cioè, le prime volte diventa veramente frustrante perché ti trovi su una piattaforma con una grafica che è veramente molto peggiore, molto inferiore rispetto a Magic Online e soprattutto Magic Arena. In più, devi imparare tutti i comandi. All'inizio si è un po' scoraggiati, ma quando ci si prende un po' la mano, il che avviene veramente in 15 minuti, dopo diventa tutto veramente molto figo. Io ve lo straconsiglio. Detto questo, adesso vi faccio vedere alcuni momenti di gioco che abbiamo fatto col premiato Maglificio Romagnoli. Noi, per sentirci e parlarci durante la partita, utilizziamo Skype. Potete utilizzare un qualsiasi programma di multiconferenza. Adesso con la quarantena si stanno inflazionando, stanno venendo tutti fuori. Insomma, la gente li sta conoscendo. Ok, passiamo al gameplay e dal premiato Maglificio Romagnoli. Come sempre, buon divertimento. Maglificio Romagnoli